Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farmix Moneter 22 nella mappa Elm Creek Come sempre ragazzi vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questo e anche tanti altri giochi scontati E poi vabbè vi ricordo anche dei miei social e della lista delle mod che utilizzo in questa serie Quindi un'occhiata in descrizione se vi va datela Allora ragazzi sto andando avanti con la trebbiatura qui della colza La colza la continueremo a trasformare in olio di colza perché vale più della colza Già Miticaccio ha portato un bel po' di colza nel frantoio e noi continueremo a farlo Allora questo terreno per ora me lo tengo Rimettiamo un attimo qua l'operaio a lavorare che era fermo Rimettiamo anche a lavorare quest'altro operaio Bene e rimandiamo in farm a questo che qui non c'è niente da fare Non è che ti schianti contro un muro vero? No bravo Poi mi serve il l'aratro perché comunque vi stavo a dire che il terreno 25 per ora me lo voglio tenere Tanto alla fine di guadagnare penso che ci guadagniamo quindi ce lo teniamo per ora a noleggio E allora mandiamo a questo qua Nel terreno 25 Poi vediamo un po' che altro c'è da fare nel caso niente Niente da fare qua Dov'hai? Ok Allora fatto ciò ragazzi che si fa oggi in questo gameplay? Abbiamo un bel po' di soldi da spendere Ok allora è arrivato il momento di comprare il biogas che ancora non l'ho mai fatto A proposito il biogas Guarda caso È proprio qua Allora io vorrei E come caspita lo compro effettivamente il biogas Aspetta Biogas vado qua Visita ci deve essere da qualche parte il cosino per comprarlo Sarà mica questo? Acquista l'edificio in pizza Un milione e mezzo costa l'impianto del biogas Cavaca Caro è Un pochino eh È un pochino caro però Ragà a me serve Però non pensavo costava così tanto E che devo far me serve Vabbè dai Tanto alla fine penso che i soldi piano piano Ormai arrivano sempre con più facilità Tanto ancora le cose successive da comprare Pure che me le faccio in casa col prestito Vabbè dai Compriamo sto biogas Madoso Rimasto di nuovo senza una lira Allora anche perché me l'avete detto Nicchia quando è che compri il biogas Quando è che compri il biogas Compriamo il biogas E compriamolo Ovviamente speriamo che mi osserva qualcosa Che appare qua Perfetto Oddio Allora Che è sta cosa? Eh? Ah Aspetta Fammi capire Cos'è sto 5000 Cos'è che mi produce Corrente elettrica? Scusate Cioè io metto dentro l'insilato Lui mi fa digestato più corrente elettrica Vabbè la corrente elettrica è quella che poi alla fine mi paga a me no? Certo Lì qua mi concime barbabietola da zucchero Io ce l'ho la barbabietola Ma non gliela do di sicuro a lui No di sicuro Allora vuole l'insilato Vorrebbe Disattiviamo un attimo questi che Non vorrei che per sbaglio partono Che cacchio ne so Allora ok Quindi Io porto l'insilato Qui l'insilato mi diventa digestato Che a me serve per il prossimo gameplay E è l'elettricità che è quella che alla fine paga a me Tecnicamente Ma quanto me la paga questa elettricità? Scusate Lui dice che me dà 5800 Ma quanto so in soldi? Che mo che c'è un simbolo nuovo qua? No Non c'è un simbolo nuovo Quindi che significa? Cosa significa? Quanto me lo paga a me? Non si capisce? Comunque l'insilato noi ce lo abbiamo ragazzi E nell'altra Nel cosino come si chiama? Qui Ce l'abbiamo l'insilato Mi pare che potrei mettere l'insilato in distribuzione Così che mo in automatico L'insilato va a finire qua dentro Nell'impianto di biogas Così non devo neanche fare avanti e indietro con l'insilato Io guarda Meglio è Così non devo neanche fare avanti e indietro A me pare proprio una bella idea Che mi fa il trasferimento automatizzato Meglio è Chiaramente se avevo il silo quello normale No perché quello va poi Se avevo la trincea dovevo svuotarla manualmente No ma siccome abbiamo la fabbrica Insomma Riesco a mettere in distribuzione questa cosa E via Allora dunque Vediamo un po' Oh questo si è fermato E' arrivato A do sta Ha finito proprio tutto il digestato Ma va bene così Quello per fortuna Ci sta azzeccando con le pietre Mi pare almeno Credo Non ne so sicuro Sì mi pare di sì Ok allora Tornando a noi Lo devo mandare Questo poi al frantoio Allora Questo per ora lo disattiviamo Frantoio Che qua già abbiamo il pieno In pratica Siamo rimasti di nuovo Con pochi spicci Raga Ma i soldi piano piano arrivano Non vi preoccupate Le galline Mamma mia le bellissime galline Le mie amatissime galline Che mi faranno fare Tanti bei soldini Allora andiamo a vedere L'insilato ancora Non è arrivato Ora mettiamo il gioco Un po' veloce Facciamo passare magari Due tre orette Ok Non sto a capire Se mi stanno arrivando soldi qua Oh Uh uh Aspetta 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 Per gli animali però eh Ok basta Metà insilato Gliel'ho dato E metà insilato Per ora Lo teniamo da parte Perché a me serve Per gli animali Anche Quindi Non è che Mo' io lo do tutto Per ora 80.000 Poi Dovrei Aspetta Io ho dell'erba Che ancora Devo trasferire però A proposito Devo comprare Un'altra cosa Speriamo che c'è ancora Me ne so dimenticato Meno male Ancora qua eh No no Questo cassone Lo devo comprare Lo devo comprare Perché quello Come si chiama Il cassone Quello Bianco Ma fa proprio schifo Eh Non me ce trovo Allora Vai Al frantoio Tu sei appena Arrivato Bene Allora Questo cassone Mi serve E lo conserviamo Ma quello Bianco Lo andiamo a vendere Perché tanto Io non me ci sono mai Trovato molto bene Con quello Siamo rimasti Con due spicci Cavolo Staccato Ah Una lavata Qua Mamma mia Che poi Signor Elon Si arrabbia Se non lo Lavo Avanti A posto Già meglio Allora vai Al negozio Ah no Aspetta Che negozio Prima Pighiamo Quello Bianco Ora puoi Andare Allo Shop Se magari Magari la manovra La faccio Meglio A posto Vai allo shop Questo lo vendiamo Bene Biogas Qua ma Qua ma 5.000 Quanto vale Sto 5.000 Che caspita Facciamo passare Un'altra Oretta Non lo so Io Boh beh diciamo che ogni ora ogni ora che passa stiamo a far più o meno 5.000 euro però penso con tutto quello che abbiamo in farm mica solo il biogas no sinceramente raga non sto a capire quanto è il mio guadagno dal biogas costi di produzione al mese vabbè so quello che spendo io però dovevano mettere quanto è il guadagno non si capisce e quello è il problema cioè magari c'era il simbolino della corrente mi diceva guarda ogni mille di corrente ti do tot ma non si capisce quanto è il mio guadagno quindi non so se ci sto a guadagnare per dire magari mi conveniva vendere l'insilato normalmente invece di venderlo così forse devo guardare ah è vero e il bello che c'ero proprio sopra è impianto di biogas 445 quindi in teoria sto a guadagnare meno 445 e meno di 453 o 455 però vabbè però io sto anche a guadagnare digestato che prima non ce l'avevo e al digestato mi serve nel prossimo gameplay poi vedrete il perché poi vedrete nel prossimo gameplay allora ok vabbè penso che allora sto guadagnando quella cifra non lo so raga non ne ho la più pallida idea vabbè presumo che sto guadagnando 450 ogni mille di corrente elettrica diciamo più o meno cioè vabbè potevamo forse guadagnare comunque di più però almeno abbiamo abbiamo il digestato almeno quindi vabbè non sto a guadagnare oro mi sa di no è giusto per il digestato ma boh se è male male che va se non mi conviene posso sempre rivenderlo il biogas no? se non mi conviene come come tutto il resto no? oh no non si può vendere il biogas penso che si può vendere se non lo voglio più no? o mi sbaglio come si fa in caso a venderlo se non lo voglio più? che devo fare? demolisci? vuoi vendere in pianto biogas? te 435 mila euro l'ho pagato un milione e mezzo vabbè non si può più vendere raga non conviene ormai non conviene più venderlo me lo paga un terzo e neanche quindi nisba ce lo teniamo e bah speriamo che ne vale la pena che vedevo di ma dove sta andando questo? boh vabbè io ho detto di andare in farm non so che strada prende oh scusi mi sposto anzi a proposito devo andare devo andare a rifornirmi mi pare che aspetto un momento no devo andare dai cosi devo andare dalle vacche e le sono lì ci abbiamo il liquame no? aspetta non c'è il digestato io il digestato c'ho ah no pia il digestato al biogas ah ah là sto digestato che lo sto a fa è pur sempre fertilizzante anche se nel prossimo gameplay mi serve voi vedrete allora andiamo a andiamo lì intanto vedo ketchup tanti bei soldini dal ketchup questo poi lo mandiamo nel terreno 25 perché lì c'è da fertilizzare allora vediamo un po' da dove che se carica mo ci deve essere il piripino da qualche parte ci deve pure essere il tubo ah ecco dovrebbe essere questo credo ecco qua dj si vabbè ma ne ho solo duemila porca miseria facciamo passare un altro paio di ore uova spazio esaurito una bella notizia boh cinquemila siamo siamo d'accordo allora devo andare al field 25 cinquemila di digestato oh oh frantoio come caspita si scarica qua perché non mi dà il simbolo per a proposito io ho la roba la poi andiamo scarica porca miseria dai quello dietro me lo fai scaricare no eh aspettiamo un attimo raga che quello dietro non collabora quello è tutto olio di colza raga vedete olio a quanto ci vuole oh allora ma perché non mi dai il simbolo porca miseria vai allora vediamo un po' poi te ne torni in farm intanto andiamo a oh ah vero devo vendere questo allora vendi per 10.000 euro quasi allora te vai in farm col cassone tre in uno che non so che caspita vuol dire allora ah mi pare che questo è quello che può scaricare che questa è una specie di nastro tipo che spinge all'indietro credo che è quello allora vai in farm che non mi ricordo più che dovevo fa ma qualcosa da fare c'era mocio da scarica questo ah vero c'era da no non era da mandare in farm era che doveva andare a pia all'erba vero devo andare a pia all'erba dov'è tu te ne vai anzi no tu pure te ne vai sopra tu te ne vai al terreno numero 15 e ci mandiamo pure l'altro camion praticamente devo spostare l'erba da sopra a sotto ok ora va bene poi la macchina ancora non è arrivata ma dove cavolo dov'è sto terreno 25 ah la è andiamo vanno c'ho tutta la giornata io forza allora terreno numero 25 si va a mettere il fertilizzante il digiostato insomma che vabbè sempre fertilizzante facciamo non non metto doppio dosaggio perché penso che è la seminatrice e poi vabbè insomma può fa pure lei può fare e allora tornando a noi devo spostare quindi la mia di trebbia finalmente da qua ah ma ma gli dovrei dare una lavata dovrei dovrei e potrei se lo faccio mettendo magari uno di questi qua beh tanto qua ci si passa spesso c'erano poi da spostare le uova allora una lavata ci sta tutta ok vai così era da un po' che non lavavo ok c'è da spostare anche la lana mi sa presto allora questo lo vorrei e vabbè ma non così così sta bene la lana la devo spostare la c'è un cassone ne ho visto un altro anche ma andrà bene questo allora aggancio vediamo un po' dove la posso mandare perché ovviamente ci produciamo i vestiti con la lana allora prendi tutto e l'altro ti fa schifo tutto così stretto ok mo mi sa che li scarico e li ricarico ok una cosa alla volta raga dovrei fare tante di quelle cose tutte in contemporanea guarda quanta lana che c'è là finalmente va dopo una lunga attesa allora lega tutto e andiamo a vedere dove mi conviene portare queste cose vediamo un po' vediamo un po' la filanda quale quale cacchiarola è la filanda qua dove è mi ma non ne trovo manco una filanda 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 mi sono perso non sono finita le filande neanche una ne trovo ah filanda ok allora qui ce n'è una che è completamente vuota e l'altra qual è l'altra ce l'ha la roba ok mi sa che manca nella filanda numero uno allora perché sicuramente mi ti caccio l'ha scaricato qua sicuramente sta a mancare la roba nella filanda numero uno vai poi questi sono arrivati li dobbiamo caricare di erba e li devo mandare all'essiccatore come cavolo l'ho chiamato essiccatore l'erba la trasformiamo in insilato anche se non è obbligatorio farlo ma si tanto l'erba di per sé non vabbè aspetta se trasformo l'erba in compost e il compost vale il doppio però e beh questo è vero però ed effettivamente a questo punto effettivamente a questo punto che senso ha a questo punto non ha proprio senso il biogas perché ovviamente se faccio compost guadagno il doppio giusto per il digestato l'ho comprato sto biogas mi sa che me ne pento un pochino è costato un botto di soldi è vero che ci stavano anche ci stanno ci stanno pure i biogas quelli posizionabili no tipo beh si c'era tipo questo che è il più economico 430 mila il problema è che comunque dovevo comprare un terreno per piazzarlo tipo però si effettivamente forse che mi conveniva mi conveniva comprarlo il biogas risparmiamo un botto di soldi vabbè comunque mandiamo lo stesso un pochino un qualcosina la mandiamo comunque al biogas all'essiccatore e il resto mi sa che ci faccio compost anzi mi sa che ci faccio già subito compost non me lo so segnato però la serra enorme è di strada insomma forse forse che ho fatto male a spendere i soldi per quel biogas era meglio comprarne uno più piccolino già che poi non ne vale neanche ormai ormai non lo posso neanche vendere perché non ne vale la pena ormai che lo vendo a fa il biogas me lo pagano niente ormai me lo tengo ovviamente ormai me lo devo tenere dai va bene sbagliando si impara la prossima volta la prossima volta non ci spenderò mai più un milione e mezzo direi proprio di no certo vabbè il compost glielo ho dato io il valore se gli abbasso il valore potrei dire ok dai l'insilato tutto sommato va bene pure però chiaramente dici mo che faccio mi metto ad abbassare il valore del compost allora come siamo combinati comunque alla fine qua con tutte ste belle cose ah questo tra un po' arriva alla filanda questo ha finito il digestato ora lo mando ora lo mando dalle vacche perché il digestato comunque non ne ho così tanto allora dove sta recinto mucche deve essere lui no quale può essere o c'ho quello recinto mucche grande non ne ho la più pallida idea ma sarà lui per forza che cacchio ne so vabbè comunque dobbiamo finire sto digestato se no se no se no come faccio a metterci liquami dentro finito alleluia e insomma raga va bene è andata così dai a me digestato comunque serve per il prossimo gameplay poi vi faccio vedere però diciamo che si poteva un po' mi sa che era meglio pensarci un po' di più e prendere quello più piccolo vabbè ragazzi purtroppo vedo che il tempo l'ho finito quindi per ora mi sa che concludo qua e ragazzi spero che il gameplay vi sia piaciuto come sempre mi raccomando commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati vi ricordo i miei social e anche la lista delle mod tutte in descrizione raga allora qui ho portato alla filanda speriamo che ci ho azzeccato che è quella giusta sì ci ho azzeccato perfetto va bene raga quindi ci becchiamo presto ciao alla prossima